Ragazzi, ho appena saputo che è uscito il voto di geometria dell'esame, il primo che ho fatto all'università. Esame di cui sapevo la data da mesi, sapete come si dice che non deve distribuire il carico di studio? Ecco, io ero arrivato agli ultimi due giorni che ancora non sapevo nulla. Inizio a sentire la strizza e il vetto sotto con gli esercizi. Cosa le sono riuscite a fare rispetto a qualche giorno fa in cui guardavo e dicevo Emozionante l'uso della punteggiatura. Eccoci arrivati al grande giorno, il primo esame. In realtà un po' di ansietta c'è, è il primo, ci sta, come deve andare, andrà. E dopo la tappa di rito in bagno ho fatto l'esame, non sa cosa aspettavi. Sapevo che mi sarei potuto impegnare molto di più. E quando per tanto tempo tutti ti continuano a dire, se ti impegnassi prenderesti voti altissimi, alla fine finisci per crederci. Ma l'unica cosa che conta è quanto ti impegni davvero. E ogni tanto abbiamo bisogno di prendere una batosta per ricordarci. Minus ai codici della mia matricola, perché non lo imparo. Ci sono dei voti bassissimi, 52, 18. Va benissimo così, anzi che la batosta rimi tra un bel po'. Però faccio anche la prossima volta, mi preparo un po' meglio e non me la rischio così.